Il Consiglio regionale ha approvato stamattina un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese sardi al sistema degli appalti pubblici. Questo in virtù dell'applicazione della legge nazionale per il rilancio dell'economia approvata nell'agosto del 2013. L'ordine del giorno unitario approvato stamane è stato proposto in prima istanza dall'opposizione ma è stato fatto proprio anche dal centro-sinistra. La normativa nazionale contempla la possibilità di dividere gli appalti pubblici in lotti funzionali, circostanza che renderebbe più accessibile la partecipazione delle piccole imprese, specie del settore edile. Spesso infatti, dato l'importo dell'appalto e la loro complessità, ad aggiudicarsi le commesse sono le grandi imprese della penisola che lasciano alle piccole e medie aziende sarde le briciole o al massimo i subappalti. In Sardegna, dove la dimensione media delle aziende è di 2,7 addetti, le piccole e medie imprese rappresentano il 99% del tessuto produttivo. L'esecutivo, recita l'ordine del giorno votato all'unanimità, dovrà inviare una comunicazione ai direttori generali degli assessorati e a quelli di tutte le società, agenzie, aziende e denti controllati, affinché prendano in considerazione le indicazioni contenute nella legge numero 98 del 2013, per rilanciare l'economia e attribuire la giusta importanza a tutti gli operatori economici, i piccoli compresi. La Giunta, inoltre, dovrà lanciare una campagna informativa nei confronti di tutte le stazioni appaltanti che operano nell'isola e nel comparto degli enti locali. Infine, dovrà riferire al Consiglio regionale sull'attuazione delle iniziative assunte entro sei mesi.